All'aeroporto di Oriol Serio, poco dopo le 4, un cargo della DHL in arrivo dall'aeroporto di Charles de Gaulle a Parigi è andato lungo sulla pista sfondando la barriera e finendo nella vicina tangenziale. Illesi il comandante e il copilota. Nessuna persona è rimasta ferita. Fortunatamente l'aereo non ha coinvolto automobili in transito e non ha preso fuoco. Subito dopo l'episodio l'aeroporto è stato chiuso per qualche ora. L'operatività è ripresa dalle 6.47 del mattino anche se con la presenza di ritardi e disagi per via della cancellazione di alcuni voli. In tilt la viabilità circostante per via della chiusura della provinciale 591 necessarie per la rimozione dell'aeromobile. Una volta tolto il cargo si inizieranno le opere di ripristino della carreggiata. Con una nota diffusa alla stampa il presidente di Sacbo Miro Radici ha affermato L'aeroporto di Bergamo costituisce un sistema collaudato di sicurezza operativa certificato sulla base delle tecnologie più avanzate di cui sono dotate le infrastrutture di volo. Quanto accaduto non può inficiare la qualità e l'importanza degli sforzi profusi per rendere lo scalo all'avanguardia in tema di sicurezza né tantomeno metterne in discussione la funzionalità. Alla luce dell'accaduto desidero ribadire l'impegno volto ad assicurare l'obiettivo primario della sicurezza e garantire la piena collaborazione con gli enti interessati.